E ragazzi è arrivata l'era dei potenziamenti Luca, Kimbo, Gigi e Thomas Ciao ragazzi In Portal Knight ancora una volta Oggi abbiamo tutto lo corrente per potenziare Tutto quello che abbiamo Si parla di macchinaggi E Gigi che batte le mani Ragazzi allora ho fatto una cavalata Nel video scorso a farmi la bacchetta Perché posso potenziare L'altare a livello 2 E se c'è una bacchetta nuova io brucio la mia No un po' Ci sta? Altare? Eh come faccio vedere le armi? No Non c'è niente Il bastone di ferro del ghiaccio Ma livello 15 Bastone del terrore elettrico No Bastone di rame del fulmine Guarda Ma tu sai che puoi fare dopo? Elemento elettrico Eletto Tu lo sai che puoi fare Tu poi te le crei tutte E in base alle situazioni le usi Eh si È fighissima questa cosa No ragazzi 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 Vai lì Ragazzi Pronto Bacchetta del terrore velenosa Eeeh Il danno alla velena è figo Ascoltami un attimo Hai ancora I lingotti di ferro? Si Bene dai 4 Vabbè abbiamo potenziato questo L'altare che fa anche? Aspetta L'armatore Le pozioni Fuoco Fuoco In bottiglia Fiaschetto Potenza armatura Ma anche voi potete vederle Sì sì Eh beh sì Perché ormai è potenziato Ragazzi Ma l'altare fa le abilità Sfera di fuoco Mina glaciale Guarigione 2 Folgore Furia Ma per noi maghi però Guarigione Per tutti Balza schiacciante Io non le vedo l'abilità Forse solo Tramite l'altare Eh fammi vedere Aspetta che devo entrare anche io Continuo a potenziare Luca mi potenzi l'incudine? Servono 4 barre di rame L'incudine Vai Livello 2 Ma che figata Ragazzi mi raccomando Tanti like In questo momento Perché Siamo in un momento della serie Raga Per andare a livello 3 Servono 6 lingotti d'oro Ehi C'è anche l'oro? Sì Avrei una sorpresina Se vieni Aspetta Allora lo piazziamo qui Ragazzi Ragazzi Ma che fornelli c'ha Thomas Che fornelli Addirittura Spadone di ferro Posso farglielo 106 di l'anno Aspetta aspetta Può essere che puoi potenziare una cosa per me Vieni qua Però livello 13 Mannaglia solare di ferro Guarda che armi Guarda che armi belle Che vuoi? Mamma mia Allora intanto potenzio Aspetta che potenzio anche Già che ci siamo Perdonami Perché non mi fa Ah perché stai andando tu Oh sì scusa Vado eh Vado eh Vada 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 Livello 3 ragazzi E qua aumenta un sacco di roba Vediamo un po' Le armature Le armature Secondo me sono fighe Le armature Elmo del minatore Oh ma le armature Dell'incudine Ragazzi Elmo del barbaro Il cavaliere Demolitore Il tuono Il gradiatore Mamma mia quanta roba Ma che belli sono L'altare a livello 2 Manu Cappucce del gran mago Guanti del gran mago Eh dai Lo stregone Il fattucchiere Dai L'incantatore Manu Il cultista Dai ma Vabbè ma che cavolo Stati narrando dicendo No adesso ci facciamo tutto eh Tutto Bacco da lavoro Livello 3 Ci dà il panno di seta Dai raga Mi servono E dobbiamo andare a farmare ferro 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 a go go Oh ma l'altare Ci ha sbloccato Blocco di cristallo Blu scuro Oh questo episodio Questo episodio D'esplorazione Dentro le cose Scrinio 3 Con l'oro Per cui il prossimo Cosa è l'oro Perfetto Perfetto Eh 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 Signor Luca Avrei una cosa da piazzare Sì ma aspetta un attimo Signor Gigi Abbiamo sbloccato Il bracere Signor Gigi Cos'è il bracere? Il bracere? Il bracere Sì 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 Il bracere E che fa il bracere? Non lo so Vai ci sei? Non lo so Vai Oh ci sei Sei qui? Piazzo? Vai E dai Ragazzi È l'aggeggio Che potenza le armi di Gigi Esatto Guarda dentro che ci sta Guarda dentro che ci sta Sai che non posso portartelo A livello 2 Perché mi mancano La resina di palma Non è un problema Guarda però che ci sta In te la resina di palma Coltelli da lancio di rame Arco di rame Rame forte Eh 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 Che noi la resina di palma Quanto ne serve? Però pecchi Gigi Pecco Pecco di che? Pecco di che? Adesso te lo dico 4 ne servono E 10 legni Ah ne ho 1 Pecchi eh Pecchi Perché? Perché? Perché coltelli da lancio di rame È quello che ti fa più danno 63 Mamma mia Pecchiamo qui eh Io c'ho quello che fa più danno Ragazzi Ma tantissimo Ma se andate sul piccone eh Andate sul banco da lavoro 3 eh Sì Artiglio scavatore di ferro Eh quello ce lo dobbiamo fare Trivella di ferro Rilevatore di risorse Quello ce lo dobbiamo fare assolutamente Quello ci serve Pietra per affilare di basalto E questa è buona Perché ti ha Ti Ti la trante boom 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 Capito? Eh sì chiarissimo Detto così poi Basalto lo abbiamo Da qualche parte Io vedo se mi posso Eccolo qua Basalto E io mi vado a fare subito Le cose che sistemano gli oggetti Di basalto Ah a me serve una cosa Mannaggia Eh perché questi devono essere comodi Dovrebbero caricare molto di più Ripristina 660 di resistenza Gli oggetti Eh Fatevele Eh ma prima mi devo fare l'arco nuovo Ce la fai a fartelo? Eh no perché Non ci sta più l'oggetto che Che ti manca? Dici dici Allora Forse ce l'ho addosso Vediamo un po' Dici pancreas Pancreas Come pancreas Allora mi serve Due lingotti di ferro Che non ho Che c'è Ne ho due giusti giusti Poi sono assenza Eh Però poi mi serve anche Due scaglie Che non ho Due scaglie Ne ho diciotto Adesso mi sento Harry Potter Ragazzi Perché? A me mi serve la pelliccia Guardami Mi sento Harry Potter Ma come l'hai fatta? All'altare vieni Con i panni di lino Eh ma io non ce li ho Non ce li ho i panni di lino Scusa Di cotone Eh non ce li ho i panni Vieni vieni Sono Harry Potter Sono Harry Potter Avevo cotone Aspetta un attimo Io ce l'avevo Ma avete rubato il cotone? No C'è tutto nella piantagione Che bella L'armatura dell'arciere Allora aspetta che ti droppo Questa Allora armatura Cos'hai fatto tu? Quella viola Eh grazie Aspetta che te lo dico subito Allora armatura Altare Altare o altare 2? Altare normale Vesti del mistico Vesti del mistico Ah eccola Anche io posso farla Perché per gli altri serve il lino O il Però attenzione Guarda che non ci dà tanto A differenza dell'armatura Che abbiamo adesso noi Mana più 25 Mana più 50 Mana 25 E rigenerazione mana 5 Esatto Però rispetto all'armatura di prima Questa qua rigenerà il mana Eh l'altra Però ci dà più cuori Sì Boh io la fabbrico però Io però la tengo per il mana Per quello Eh ma ci servono materiali ragazzi Ora ci servono materiali Mi fabbrico Bambete Tanto il cappello non me lo faccio C'è quello là del miniere Del miniere Ottimo Del minatore Allora Vedi Resistenza danno della natura 3 Mi dava il mio giubbottino E mettiamo questo E ok Oh Perché non me lo cambia? Ah devo entrare in vanità No Oh Oh Ah me l'ha cambiato Oh Oh Non ce l'ho più Come non ce l'è più? Oh Ciabino Ma la maglietta non me l'ha fatta? La maglietta non me l'ha fatto È tutta la messa Mi manca i lini I lini? No il cotone ti manca Mi manchini i cotoni E c'è la piantagione lì Eh Mi ha plantato La piantaggione Ma ho metà ce n'è qua Eh vabbè che ne abbiamo fatta fare Scusa Allora i pannilini Dove la faccio? Pannilini Nella smiti Ok facciamo qua Gigi tu sei a posto? No mi servono Mi servono due di carbone Se ce l'abbiamo Allora Da qualche parte Vieni qua con me Vieni qua con me Ah ce l'ho qua Vieni dallo zio Vieni Ma l'ho trovata zio Ma io ho blocco di pietra runica Dove l'ho presa? Allora vuoi il ferro? To È terra Allora Mi sto spiegando prima il mio Momento d'azione Eh infatti è vero Sto facendo la barra di rame Che? Perché tramite la barra di rame Poi mi vado a costruire tutte le cose Mi voglio fare l'arco nuovo E mi voglio fare anche un'armatura carina Se riesco Altrimenti Mi conservo tutto Oh chi è che si sta facendo le barre di ferro? No io di rame Sì Allora I panni di seta giusto? Eh Di cotone Eh di cotone Io che ho detto Scusami Di cotone Che dipendano Manuel il secondo? Aspetta Pannolini Panni di cotone Eccoli qua Sì panno di cotone Una banca da lavoro Una banca da lavoro Per caso Per caso C'avete un po' di rame? Mi mancano tre No un pezzo forse mi manca Grezzo? Sì Vieni da me Se c'è lingotto Mi va bene pure un lingotto No c'ho Quello grezzo Allora fammi vedere Dai andiamo Questo ragazzi è un episodio un po' strano A differenza degli altri Perché è tutto Qua in casa Sì uno grezzo mi serve Te l'ho droppato a terra Dove che sei? Ti togli un attimo Dalla mia All'altare Dai raga Fate di fretta Che ho voglia di spaccare il ferro Aspetta Tieni Tra l'altro l'ha droppato tu Ho scoperto che lo zaffiro Oh raga Mi ha sbloccato i cosi Nell'altare 2 Che cosi? Zaffiro del mare rifinito Elettro quarzo rifinito Polvere di zaffiro Polvere di elettro E nell'altare Pirletta Possiamo fare Lo smeraldo verdeggiante rifinito Ora è craftabile Anche il rubino Nell'altare 1 Le abilità servono solo per noi Eh Minzeca Mi possiamo fare tutto E a noi A noi Cioè tipo a me a guerriero Mi serve l'incudine A voi l'altare E a Gigi la torre Oh ma 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 te ti puoi fare anche la sfera di fuoco Ora che ci vedo Mi sono fatto Un po' di mandello Zio Ma chi? Zio ti puoi fare la sfera di fuoco Non vorrei disturbare questo ternino C'avete delle scaglie Due scaglie Te l'ho buttato a terra Non so chi l'ha preso Ma dove l'hai buttato? Sei un fasullo Non è vero niente Io neanche Ma guardali Guardali Non c'è niente Non c'è È un fasciullo Trovate Trovate dove? Aspetta Adesso te le do Scusami Eccocele addosso Mi sto vestendo Molto gentile Vieni qua Lontanati da queste genge Vai vai Che sono dei Dei furfanti sono Le scaglie E volevi il ferro No no Solo due scaglie Io il ferro Eh io non so come buttartene due Devo buttartene 18 Butle Le rimetto nella cesta Poi tanto Ah Raga Io direi Abbiamo fatto tutto Ora Quello che si può fare Secondo me Sì Fare un paio di chest Sì Ok Ascoltatemi E riempirle di materiali Ferro Carbone Merardo Rame Sì Che ne pensate? Assolutamente sì A me mi piace Facciamo un episodio Farming Solo di Andiamo mondo per mondo Prendiamo un po' di rubini Un po' di ferro Un po' di carbone Facciamo due chest Piene solo di materiali Vai Ci sto E poi Nel episodio Quello dopo ancora Sblocchiamo noi i mondi Perfetto Andiamo Un abbraccio Vai Dunque ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Dove andremo a farmare Un po' di questi genti Un bacione Un abbraccio Da tutti noi è tutto Iscriviti Nel canale Ciao Ciao belli